Attenzione alle monete da 2 euro false. L'operazione dei carabinieri antifalsificazione monetaria dei militari del Comando Provinciale di Taranto, di cui abbiamo parlato sul nostro sito e nei nostri telegiornali, ha portato all'individuazione di oltre 100.000 monete di quel taglio false, per un peso, pensate, di oltre 90.000 chili. Le indagini hanno fatto emergere un presunto gruppo criminale radicato a Massafra e in altri comuni della provincia ionica, come dedito alla gestione di una zecca clandestina realizzata in un'area privata. I militari hanno operato quattro arresti. Le monete false venivano spedite con plichi affidate ai corrieri a dignare vittime che le scambiavano con criptovalute bitcoin. Sarebbero state effettuate 60 spedizioni i dettagli nelle parole del colonnello Giuseppe Cavallari. Le indagini hanno delineato la capacità produttiva e la filiera di approvvigionamento dei materiali da ditte del centro nord inconsapevole dell'attività criminale di un gruppo in grado di distribuire le monete false attraverso l'attività di un vendor che gestiva un canale di Telegram. Le attività di deanonimizzazione dei soggetti operanti nel web effettuata dalla sezione criptovalute attraverso l'analisi delle transazioni sulla blockchain permettevano di evidenziare il fondamentale ruolo di escro, cioè di garante delle transazioni, di uno degli indagati in grado di movimentare oltre un milione di euro in transazioni di diversa natura. Gli accertamenti svolti consentivano di attribuire al sudalizio 60 spedizioni in Italia all'estero, ricostruite anche con il supporto di Europol, per un totale di 91.000 kg corrispondenti a 102.000 monete false da 2 euro.